ciao a tutti oggi vediamo questi quattro attrezzi si tratta di pinze molto precise e di alta qualità sono tutti in acciaio inox con manico ergonomico antiscivolo hanno una lunghezza totale di 11 centimetri sono piuttosto piccole quindi sono pinze di precisione questo in particolare è un tronchese si può vedere la perfezione della lama non c'è aria è completamente chiusa a filo questa invece è una pinza a becchi tondi questa in particolare viene molto usata per chi fa oggetti di bigiotteria per chiudere gli anellini ad esempio questa invece è una classica pinza a becchi dritti non è zigrinata all'interno ma liscia proprio per non rischiare di andare a rovinare piccoli oggetti vediamo anche qui che è perfettamente chiusa si tratta di tutti oggetti in acciaio inox a doppia molla sono degli ottimi attrezzi per piccoli lavori di modellismo bigiotteria piccoli lavori di precisione vediamo in ultimo la pinza a becchi curvi anche questa molto utile per piccoli lavori e in particolare qui vediamo le due molle io vi ringrazio per aver visto questo video vi aspetto per i prossimi visitate il nostro sito elettronica didattica per queste pinze e tanti altri attrezzi ciao a tutti a presto